Musica Bella ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cure93 Siamo qui oggi per la puntata sui trucchi di GTA V Come sapete sono comparsi molti trucchi online Ed è giusto che anche voi sappiate un pochettino come utilizzarli Sappiate che ovviamente una volta che utilizzate i trucchi e salvate in un determinato punto Non potrete tornare indietro nel caso dobbiate sbloccare gli obiettivi Quindi vi consiglio di farvi un salvataggio per i trucchi e un salvataggio per giocare normali Come potete vedere nella mappina ragazzi Adesso qui ci sono io con un casino di forze della polizia Con l'elicottero che mi segue mi sono messo a 5 stelle Allora adesso mi sono già ricordato il trucco per alzare e abbassare le stelle Dovrebbe essere, però io ce li ho scritti anche Allora sono, per abbassare il livello di ricercato dovete cliccare RB, RB, B, RT E poi destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra E invece per alzarlo è il contrario RB, RB, B, RT Sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, destra Ok ragazzi clicchiamo B e andiamo subito a Dobbiamo scappare dalla polizia Pronti? Via! Ok, allora mi stanno inseguendo Come potete vedere ragazzi c'ho una fila di patuglie dietro Davanti c'ho i blocchi stradali, i classici Che mi sparano, mi stanno devastando ragazzi Io ovviamente sono con questa charger di merda Voglio vedere un pochettino Allora ragazzi come potete vedere sono due, ben due elicotteri che mi inseguono Quindi io direi di Uh ragazzi no, abbassiamo il livello RB, RB, L, T Eh, R, S, 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 S No ragazzi mi sto inculando Dai! Scappiamo Che palle Allora Com'è il codice per abbassare il livello? Dai da sinistra, destra, sinistra, R, B R, B, R, B Ok Quindi il primo codice dobbiamo adesso dobbiamo abbassare Dobbiamo vedere se riusciamo, se riesco ad abbassare il livello Prima che mi spacchino il culo R, B, R, B, L, T Uh, destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, destra Ok, uno l'ha abbassato ragazzi Una stellina è fuori Uuuuh Ma siamo pazzi ragazzi R, B, R, B Ok No No Stiamo devastando la macchina ragazzi Togli sto cellulare di merda R, B, R, B Ok 3 stelle ragazzi Stiamo riuscendo ad abbassarci Dai Cazzo Cazzo Andiamo, andiamo, andiamo Dobbiamo scappare ragazzi Riproviamo il codice R, B, R, B Ok 2 stelle ragazzi Abbiamo quasi azzerato il livello di sospetto Sono ricercato pochissimo ormai Dai Mamma Dai No Ancora Wow Saltiamo ragazzi Boom Neanche Neanche per farlo apposta ragazzi Ma vedete dove siamo arrivati in aereo po' No Ragazzi Abbassiamo anche l'ultimo 3 stelle No Vediamo se riusciamo a prendere No, non si può entrare No Vediamo se riusciamo a prendere Uh, questo forse lo prendiamo ragazzi Dai Dai Grande Vediamo se riusciamo a prendere l'aereo ragazzi Ragazzi se prendiamo l'aereo Siamo a cavallo No Ragazzi si può prendere l'aereo Grande Ma perché ho messo la macchina lì Non si guida ragazzi Non riesco a muovermi Non so perché Ragazzi non mi gira il Ah ok ok risolto E' bello Poi dal cazzo Il curre vuole prendere il volo ragazzi E lo prenderà in ogni modo Anche sull'erbetta ragazzi Il curre vola Il curre vola Ovviamente mi sparano gli aerei Nel frattempo Mamma ragazzi Questo non l'avevo ancora provato Non pensavo Uh No 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 Raddrizzati Raddrizzati Alza Perfetto ragazzi Grande Ok siamo in traiettoria Adesso dobbiamo provare ad abbassarci Pronti Dobbiamo provare ad abbassare il livello di Attenzione Di ricercati RBRBD No cazzo il contrario Ho sbagliato Mamma mia Mamma mia ragazzi Il motore sta prendendo fuoco Non so perché Alziamoci quindi RBRBD RT destra-sinistra, 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 due stelle ragazzi due stelle, se si alza quest'aereo mi son piacere, che stavo già presto ah bello, posso anche abbassare, posso alzare abbassare i carri c'ho motori in avaria ragazzi, c'ho motori in avaria vediamo qui ragazzi, ritorniamo in città cosa fai? no, no, si cazzo no dai, rialzati, rialzati di quota, rialzati, rialzati, rialzati grande metti, metti i x mi schianto ragazzi, siete pronti? ah no, bam e ovviamente miglioriamo anche l'abilità di volo allora, lo abbandoniamo qui ragazzi allora, adesso siamo abbassati tutte le stelline, adesso vediamo le altre cose ragazzi allora, per esempio, ricaricabilità a, a, x, r, b, l, b, a, destra, sinistra, a abilità speciale ricaricata a ricaricabilità, ok corre più velocemente y, sinistra, destra, destra, l, t, l, b, x corri veloce vediamo come corre ah bello che cazzo è? sembra un gnomo come corre ragazzi sembra un gnomo e poi ovviamente però il salto non è lo stesso cioè è sempre lo stesso non è che vabbè, comunque sia attacchi corpo a corpo esplosivi questo possiamo mollarlo attacchi corpo a corpo munizioni esplosive, ok obiettivo slow motion no che cazzo sarà? slidey card durante il gioco y r, b, r, b sinistra, r, b, l, b, r, t, l, b niente rivediamo un attimo allora slide car r, b si è questo ok y, r, b, r, b sinistra, r, b, l, b, r, t, l, b ovviamente na 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 ok tolte le stelline così almeno ce le abbiamo tolte vabbè ragazzi non mi esce quel trucco vaffanculo spawn buzz proviamo l'elicottero ragazzi proviamo l'elicottero che adesso è una figata allora togliamoci prima di tutto la pistolina dalle mani sempre tolta vogliamo essere disarmati per sicurezza allora volevo vedere quell'elicottero quindi facciamo b, b, l, b b, b, b l, b, l, t r, b, y b, y eccolo qui ragazzi ragazzi l'elicottero spawna davanti a noi proviamolo allora andiamo raga allora ok giriamo con questo perfetto è messo veramente male ragazzi quello per girare perché dobbiamo cliccare io vi dico soltanto che per girare verso destra e sinistra dobbiamo cliccare r, b o l, b ascolto questo elicottero ovviamente non so come spari razzi che figata ragazzi si no come ho fatto a morire vabbè ragazzi continuiamo ah no questo è l'elicottero d'assalto ovviamente ragazzi i trucchi ve li lascio giù in descrizione così potete prenderli utilizzarli come volete magari vedete e ve li metti in un foglio di testo e li utilizzate quando cazzo volete perché che ne so ragazzi non è un gta senza i suoi trucchi ovviamente e aspettiamo che escono anche gli altri trucchi quindi siamo arrivati qui ragazzi visto che non mi dire che senza ah no la pistola non me la tolgono giustamente ragazzi allora l'altro è ok abbiamo fatto scelere l'elicottero facciamo scelere spawn caddy b lb sinistra rb lt a rb lb b a il candy ve lo ricordate questo qua troppo bello il candy scusate non il candy il candy questo era fantastico ai tempi di sandras ma lo ricordo anche questo un hammer ok niente ragazzi niente a paragone con questo allora poi altri trucchi sempre fanno comparire sempre minchiate quindi una comet sarà una macchina ragazzi rb b rt destra lb lt a a x rb eccola qui ragazzi la comet questa qua che sembra una porsche frontale e una mustang dietro una mustang riabbassata allora ragazzi alla fine quelli che fanno gta cioè gli conviene anche mettersi proporre le loro idee le loro costruzioni delle macchine delle auto anche a vari costruttori perché sinceramente sono veramente simpatici sono veramente delle delle combinazioni fantastiche escono delle macchine veramente fiammanti questa macchina è velocissima e boh si non è male ragazzi questo no questo quartiere no non è quello che penso io dopodichè ragazzi ah alle ore come proviamo la duster destra sinistra rb 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 sinistra y y a b lb lb no cazzo rb ho scritto riproviamo destra sinistra rb 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 sinistra y y a b no non so che cazzo ho cliccato ragazzi allora togliamoci la pistola dalle mani come al solito visto che questa merda non me lo vuole far fare destra sinistra rb 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 sinistra y y a b lb lb oh no ragazzi no non ci credo che figata partiamo qui in mezzo alla strada raga ma grande ah si infatti la stessa cosa si però partisse non parte vai che cazzo sta in macchina in mezzo ai coglioni vai dai fuori dal cazzo macchina di merda allora vediamo un attimo ragazzi quanti minuti siamo vorrei soffermarmi troppo perfetto allora vogliamo qui perfetto vediamo sta macchina va la regalo ragazzi ti fai male m***a sei caduto a un metro neanche ovviamente io ragazzi ovviamente l'aereo planino strano partiamo questa strada ok 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 ce la stiamo facendo girarlo dai ok giriamo perfetto ah l'aereo per il concime ragazzi non l'ho visto ma vai a fare nel culo cazzo ma vaffanculo ragazzi abbiamo capito che prova a farlo qui la vado di nuovo a me eh che mi ah perché mi stanno sparando ma perché mi stanno devo essere nel quartiere sbagliato ragazzi devo essere nel quartiere sbagliato mi hanno spaccatetto il culo ragazzi allora limo ovviamente non ve la faccio neanche vedere perché è una minchiata una cagata a me non piace uh ragazzi aero acrobatico trash master ubriaco no ubriaco no tempo atmosferico non me ne sbatte una minchia mmm ragazzi allora se c'è la strada libera qui davanti riprovo l'aereo strano il duster altrimenti proviamo direttamente l'aero acrobatico io direi di provare l'aero acrobatico ragazzi allora aero acrobatico B destra LB LT sinistra RB LB ma vaffanculo allora riproviamo B destra LB LT sinistra RB LB LB sinistra sinistra A Y mamma che figata ragazzi sali sull'aereo vai zio mamma mia raga proviamo a toglierci dalla strada non ce la farò mai a partire qui in città ragazzi mai e poi mai è troppo difficile dai non incollarti tu dai minchia brutto stronzo ancora c'è proprio una testa di cazzo zio mi puoi partire con il mio aereo vado a cagare ragazzi è un casino non posso partire da qui e che cazzo mettiamolo qui in mezzo ragazzi facciamo così dai corri zio ok qui c'è lo stradone voglio vedere se non ce la faccio allora rivediamo B destra LB LT sinistra RB LB LB sinistra sinistra AY vabbè vaffanculo mi esce quel cazzo di telefonino allora B destra LB LT sinistra RB LB LB sinistra sinistra AY eccolo qui e ovviamente bianco questa volta era più figo verde dai veloce partiamo partiamo dai 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 grande vai si siamo partiti ragazzi ci mancava solo il cavo ci mancava solo ovviamente acroba cazzo no sono morto anche controllo si disconnete ragazzi vaffanculo quanto siamo saremo 15 minuti minimo 17 minuti ragazzi è un casino allora facciamo le ultime minchiate dovrebbero essere macchine se non sbaglio solo esclusivamente macchine ok siamo di nuovo in ospedale dai l'ospedale mi cura gratis ovviamente allora mi sono cagato ragazzi ah bello allora facciamo rapigiti ragazzi allora RT LB B destra LB RB destra sinistra B RT questa è una macchina questa è una macchina sembra una Stomart indietro e una Porsche davanti con la musica Stilish mamma ragazzi vabbè questa è la macchina non dilunghiamoci troppo ragazzi rimettiamoci il pugno che altrimenti qui spara e la polizia la tira allora rapigiti Trashmaster proviamo Trashmaster B RB B RB sinistra sinistra RB LB B destra no il camion dell'immondizia ragazzi the best il migliore guardate fighissimo ragazzi ok poi possiamo vedere cos'altro B A LB BB LB BRB RT LT LB LB ah la moto deve essere una figata proviamola bello ti sei impainare zio bravo che cazzo stai facendo vabbè ok eh bastano come che oh proviamo la modalità ubriaco ragazzi proviamo la modalità ubriaco mettiamoci qui ah facciamo eh perfetto facciamo eh y destra destra sinistra destra x b sinistra modità ubriaco vediamo come cammina ragazzi non ha niente icca ragazzi vabbè dai fuori dal cazzo ah è la guida guarda come guida non tocco niente ragazzi si è impappinata la mattina no ma cosa guardatemi ragazzi pronti no ragazzi si è storto l'asse vabbè e niente ragazzi o più o meno un pochettino di tuki ve li ha fatti vedere comunque proviamo start allora ragazzi che dire spero che i trucchi vi siano stati utili quando ne usciranno altri ovviamente li vedete nel mio canale e spero di trovarli il prima possibile perché veramente mi fanno ridere neanche non neanche sapete come ma vi giuro che mi fanno morire da ridere questi cazzo di cosi però vorrei trucchi più più impegnativi più divertenti magari più cazzosi cioè più cazzuti come avete potuto vedere le 5 stelle per adesso mi sembra niente di che io mi ricordo le 6 stelle antiche perse dove c'erano i carri armati che vi inseguivano ed era una cosa epica ve lo giuro epica mi vorrei soffermare anche principalmente sull'aeroporto perché magari possiamo guidare anche gli aerei di linea ragazzi non lo so questa potrebbe essere una cosa molto figa a me piacerebbe tantissimo guidare l'aereo di linea non so se ve lo ricordate sempre nei vecchi GTA si poteva guidare e niente ragazzi spero che i trucchi vi siano stati utili iscrivetevi commentate vi mette un mi piace come al solito se ovviamente avete apprezzato il mio video vi lascio sempre in descrizione giù la pagina facebook del mio canale di cui non mandate ovviamente il mio canale e che dire ragazzi ci vediamo alla prossima ciao raga ciao a tutti ciao a tutti